Ed anche nel 2021 proseguono in Piemonte purtroppo i furti di alveari e materiale apistico. Anche nel 2021 proseguono i furti di alveari, favi e di nuclei con tanto di ape regina. Nell'anno in corso a Spromiele Piemonte, Associazione Produttori di Miele del Piemonte, sinora ha segnalato alle forze dell'ordine sette furti avvenuti a Divignano, nel Novarese, a Rivalba, nel Torinese, a Pianfei, nel Cunese, a Collobiano, nel Vercellese, a Buttigliera Alta e Orbassano, nel Torinese. A Spromiele ricorda il numero di segnalazioni di furti di materiale apistico denunciati in Piemonte dal 2013 ad oggi. Nel 2013 i furti segnalati sono stati 27, 17 i furti nel 2015, 22 l'anno dopo, 21 nel 2017, 13 nel 2018, 19 nel 2019, 24 i furti segnalati nell'anno 2020. L'Associazione Spromiele mette a disposizione un indirizzo mail dove segnalare i furti, monitoraggio.furti.aspromiele.it Per quanto riguarda i beni sottratti dei ladri, la stima dei danni è questa, 250 euro per ogni alveare, 150 euro per uno sciame o nucleo, 50 euro ad arnia, 200 euro per il nido con solo favi. Ecco l'intervista a Luca Lais, tecnico apistico di Aspromiele Piemonte. Purtroppo anche quest'anno è iniziata questa problematica dei furti che si registra ormai da anni in Piemonte. Sono avvenuti dei furti soprattutto in Val di Susa dove sono state svuotate 50 alveari e quindi con un danno superiore ai 10.000 euro. La problematica dei furti è una problematica che ormai come Aspromiele segnaliamo già da quasi una decina d'anni. Tutti gli anni vengono monitorate tutte le problematiche che ci sono a livello regionale, vengono fatti dei documenti e mandate alle forze dell'ordine come denunce cumulative di tutte le denunce di cui siamo a conoscenza. Per potersi difendere dai possibili furti ci sono diverse strategie. La problematica più importante è che in realtà gli alveari molte volte sono in zone isolate, quindi non sono sempre facilmente controllabili. Le strategie che normalmente mettiamo in atto sono quelle di monitorare continuamente dei sistemi di allarme che vanno dal posizionamento dei GPS alle videocamere notturne e abbiamo anche poi una polizza contro i furti che però è sempre chiaramente un costo in più per gli apicoltori. I furti purtroppo avvengono in questo periodo perché c'è un maggior mercato delle api, quindi c'è un momento in cui c'è la compravendita di famiglie, di nuclei, e quindi in questo momento è più frequente che avvengono i furti. Purtroppo questi furti attualmente stanno avvenendo anche nei periodi autunnali e questo fa dire che chi è probabilmente l'autore dei furti è molto probabile che siano apicoltori perché purtroppo per fare questo tipo di furti bisogna conoscere bene il settore e soprattutto il soggetto con cui si lavora. E a volte sono persone alle prime armi perché rubano in qualsiasi momento dell'anno, quindi non capendo esattamente qual è l'importanza a volte di quello che stanno andando a rubare.